Come centri ICLO, oltre all'attività che prevediamo presso le nostre sedi, quando c'è richiesta o quando c'è la necessità, siamo disponibili anche ad organizzare e a supportare attività fuori sede. In questo caso siamo qua ad Ortisei, la clinica si presta molto per l'attività formativa, pratica e siamo ben lieti e ben contenti di supportarla. Quindi siamo aperti anche a queste iniziative al fine di incentivare e supportare la formazione pratica di corsi in Italia. Per quanto riguarda l'allestimento, devo dire che allestire una sala settoria, quindi non una sala operatoria, una sala settoria richiede chiaramente del tempo e dello strumentario che dobbiamo portare, perché si tratta comunque di strumentario dedicato, dedicato a corsi di formazione pratici su preparati anatomici e quindi richiede un allestimento che va dalle 4 alle 6 ore in base alla grandezza della sala e alla grandezza anche dell'evento e del corso. Per quanto riguarda i preparati anatomici, chiaramente sono tutti donatori che provengono dagli Stati Uniti di America, sono tutti donatori che invitano e hanno espresso il proprio consenso alla donazione e che quindi è possibile utilizzare a fini didattici e di formazione per questa tipologia di corsi.